Molte attività ferme, in particolare quelle che prevedono assembramenti. La priorità ora è sconfiggere la pandemia, lo sottolinea il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano. L'obiettivo di tutti noi, spiega, è distruggere il virus. La vita amministrativa riprenderà regolarmente di conseguenza. Non abbiamo potuto fare, sono fermi concorsi, fermo qualsiasi tipo di attività, perché queste attività prevedono per lo più anche, come devo dire, degli assembramenti, degli incontri. Quindi noi, sia i legiunti che i consigli comunali, stiamo facendo in videoconferenze, quindi senza poter stare insieme. E siamo limitati anche nella vita amministrativa, perché alcuni lavorano in smart working, in ogni caso non possiamo permettere l'accesso a tutti sul comune. Quindi ci sono sicuramente delle limitazioni, che, ripeto, dobbiamo comunque percorrere per poter uscire da questa storia. L'ospicio principe è che dobbiamo uscire da questa situazione. Cioè, dobbiamo poter ritornare a stare insieme, senza mascherina, a poterci anche abbracciare se desideriamo farlo. Ed è questo, penso, che sia il vero obiettivo del 2021. Tutto il resto, sia della vita amministrativa o meno, verrà conseguentemente alla risoluzione di questo problema. Perché effettivamente, diciamo, non ce la facciamo più. È un problema per noi, ma soprattutto è un problema anche sociale. Le scuole stanno chiuse, i bambini e i ragazzi non hanno possibilità di frequentarsi. E questo sicuramente non è un fatto positivo, perché la socializzazione è alla base della vita. E soprattutto poi i commercianti, che io vedo in questo momento assolutamente disperati, hanno perfettamente ragione. Perché è una situazione che va verso, io non voglio dire un disastro economico, ma sicuramente verso grosse difficoltà da un punto di vista economico. E credo che non sia giusto, perché comunque ha fatto sacrifici per una vita. Grazie. 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 Grazie.